musica 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 visto che devo disegnare una cosa che inizia con M e già ti ho dato un indizio eh ok cosa ti ho disegnato oh 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 tesco scheletro lampadino chef chef cos'è ma cos'è uno scheletro è uno scheletro no aspetta un attimo io l'ho fatto tanto per farlo buono denti no dentiera mascella siii oh my god pro gamer di scribble corona grazie no dai non volevo questo ma che schifo no così è troppo facile così è troppo facile allora non ho neanche tempo no no devo fartelo a modi di casetta ok ok poi queste sono le gambette tutte belle ok non è una casa non è una casa non è proprio una casa ok aspetta è un ospedale no vabbè un ospedale così che gli ospedali frequenti il vicino ma che vicino chi ci caga qui chi ci ha cagato questo questo cos'è lorenzo cos'è il piccione il piccione cosa fanno i piccioni non gli iscritti veloce è nato prima l'uovo la aspetta no l'ultimo ci eri arrivato mamma mia questo era un pollaio quello era l'uovo cagato dalla gallina oh giuro non so come farlo oh dio oh santo cielo lorenzo cos'è e non lo so e vabbè sembra un asino sembra un asino lorenzo no non è un asino no giuro è un leprotto un canguro guarda ah quattro zampe wow non avrei mai detto no che cosa ho fatto ma adesso mi hai tolto tutto mi hai tolto no no aspetta aspetta ho dieci secondi ho otto secondi allora allora questo questo no aspetta un attimo non riesco a giocare a sto gioco allora questa niente ululato cos'era sembrava uno con il lanciafiamme che sparava la luna non sono riuscita a farlo ok 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 questo è semplice cioè semplice ma anche difficile cuscino no come come no ah non so no non è un quadro come no è un quadro ma cos'è dentro il quadro aspetta aspetta ma che panorama ma che riviste ti compri ok è un tramonto no non c'entra ok allora allora c'è una corrente c'è una corrente di quadri cos'è? c'è guarda te l'ho fatto bellissimo realista no ma cosa si dice è cubista cosa si dice questo quadro va visto dall'interno da vicino hai 22 secondi Lorenzo non sprecarli ok allora concentrati nei quadri ci sono vari soggetti no questo che soggetto è? quando disegni una cosa come lo chiami? ha disegnato un 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 p p p p p p p p p sì una medaglia a questo uovo mamma mia buio 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 ok la t-shirt la facciamo di color verde una green screen shirt sì però attenzione la t-shirt ha un problema è un po' short troppo ha un problema è ah macchia purtroppo no aspetta sì sì l'ho capito l'hai capito? aspetta aspetta l'hai capito? ma non so mi ricordo come si scrive Willy Wonka no bravo ma non è Willy Wonka ma cosa cosa crea Willy Wonka? cosa distribuisce Willy Wonka al povero bimbo? no cosa distribuisce per la fabbrica la fabbrica e le borrette di cioccolato ma cosa distribuisce al fortunato? il biglietto Lorenzo dobbiamo farlo dobbiamo far entrare i nostri scritti un attimo si deve rifare ecco ecco mamma mia quante persone questa è per chi segue la mia serie ve la disegno no ragazzi no ragazzi ma il craft art con l'avete capita? l'avete capita? l'avete capita? l'avete capita ragazzi è lui l'ho capita? Coral Reef è un vero fan si Coral Reef è un vero fan eh ti sei andato a cercare ti sei andato a guardare il video per ricercarti il nome ci ho piegato due secondi a farlo come si chiama? come si chiama? guarda ci stanno arrivando tutti allora hanno seguito bravi vero i fan si è pimpa trovato no qual è? trovato È un... No, come che... No, non così Come cavolo si scrive? Senza la K Pig Pig Bravo Lorenzo, bravo Pic Nick senza la K Tre secondi, Pic Nick Ma siamo seri? Ma siamo seri? Aiuto Un boomerang Eh no aspetta È quello sbucciarance È una cosa dai dai Come si chiama lo sbucciarance Dimmelo il trita arance Non devo dirlo perché sennò arriva là Non è un trita lo so come si chiama Lo devo scrivere Sbucciarance come si chiama Aspetta aspetta Agrumi Forza dai forza che l'ha indovinata Ragazzi Non mi ricordavo che esistesse sta parola Nel vocabolario italiano non la uso mai Agrumi Eh noi si perché in Sicilia sai quante grumi ci abbiamo Porca vacca Dai disegno questa questa è carina Ok Allora Allora provo a disegnarlo da come me lo ricordo io Mamma mia ragazzi Mamma mia Facci sognare Gabby Vi faccio sognare Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Allora così Aspetta Un è topolino Come non è topolino Un è topolino Ma quelli sono piedi o sono mani? No Non neanche Non sono né piedi né mani Sono qualcosa di totalmente diverso Ci siamo È una roba strana lo so Avrà senso Oh Schifo l'ha sgamato L'hanno sgamato No A me sembra mister potato Mister crab Cos'è mister crab? È un gra 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 Eeeh Amma mia L'aiuto del pubblico È riscesa la calma Nella storia Nella città di È un fagiolo Non è un fagiolo Labbra È una bocca E questa qua cos'è? È un labbro quello E quello è una cosa che assilura una capsula Che deve entrare nel labbro No aspetta Sta cadendo Aspetta Sta cadendo Sputo È uno sputo di me No è una cosa simile allo sputo Saliva Sì Mamma mia cos'è che sbrutolava Ah che schifo Devo cambiare Ok ragazzi Ok 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 Questo ce l'ho Questo ce l'ho Questo ce l'ho Allora guarda Oh 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 Sto morendo Oh 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 no Oh mi prego Oh no Oh Sto morendo Guardate la mia faccia Rughe 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 di morte Oh Please Please Give me Give me Give me Give me something Ho bisogno di Ho bisogno di Ah Sto morendo Aiuto Calamano Per favore Per favore Sono pieno di rughe Sto cadendo a pezzi Non sto Mangi Da giorni Io sono Mammi Oh Boomer No Te ne faccio un altro Aspetta ti faccio un altro disegno Che vi faccia capire È una persona Che Ha mangiato poco Quindi è Uaaaa L'ho resso Era magro Magro Guarda Così Stella Asterisco È bello Sì 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 Ma poteva anche essere Un campo minato Sai cosa mi sembrano Quei cosi Nello sbarco di Normandia La Quei cosi La Anti min La Anti nave Hai flashback Della guerra Sì Sì Quando vedo i tuoi disegni Sto scherzando Mamma mia che tristezza Quella in mezzo Santo cielo Lorenzo Meglio di no Beh Entrambe Queste due vanno a braccetto A volte Ok Ehm Spero per te che mi faccia le cose facili Va bene Dai Ok No Sì Perfetto Ok Ok Questa la devo fare bene Lo devo fare bene Ok Questa ce l'ho Questa ce l'ho Mamma mia Questa è molto meme Questa è molto meme Aspetta Devo anche fare la strada Dove era prima Lui Così Ok Qua cosa c'era Un viale Qua c'era la bicicletta I'm in the ghetto Aspetta Oh Oh shit Here we go again Eh Ti lo so Erbita Yeah Cosa fa Che mestiere fa Che mestiere fa Il nostro buon Carlo Che mestiere fa Oh shit Here we go again Dai adesso disegno Allora cos'è Dai dai E' una gabbia Sembra una gabbia Candelabro No aspetta Guarda Ti prego Eh Cos'è una chiesa Sembra Ma Una colonna No è quell'edificio Quello di Washington È in America Sì Eh non lo so il nome Ma dai Famosissima Sì lo so È la casa bianca Esatto Era pure bianca Oh mamma mia ragazzi Qua ce ne sono tante livelle Ok Ce l'ho Ce l'ho Ti dico solo questo Parapam Paaaa 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 No Paaaa 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 Oh ma stai vincendo Stiamo scherzando Banano McDonald Parapapapapa No Pappara Sono un elicottero Sono un Coccodrillo Sembra un coccodrillo Lorenzo Eh dai Spiegati Sottomarino Dinosauro Cammello Bravo Oh Le due gomme Che erano due colline Le bocce da cammello Bene Guarda Ho vinto Hai vinto Evviva Eeeh Bene ragazzi Questo era tutto Per scrip Sclero Punto io Ecco Riassunto Sclero Punto io Io ho sclerato Lui ha sclerato Tutti abbiamo sclerato Bella giornata Vi auguro un buon fine settimana Lasciate un like Un like al giorno Togli lo sclero Di torno I'm out Un like al